Ciao, oggi vediamo insieme come creare una mood board con Adobe Illustrator. Innanzitutto, che cos'è una mood board? Possiamo definirla come una presentazione monopagina di un brand che dà maggiore risalto all'impatto emotivo anziché agli aspetti tecnici. Dunque condensa in un'unica pagina una serie di immagini che possono essere grafiche personalizzate, pattern, porzione di corporate identity, il logo del brand, risaltandone appunto il sentiment anziché soffermarsi sui singoli dettagli tecnici che sono invece lasciati ad altri tipi di documenti e presentazioni. Creiamo la nostra tavola di lavoro, possibilmente una tavola orizzontale che può anche rispettare le dimensioni Full HD 1920x1280 o 1280x720, quindi HD. Ci spostiamo sulla palette degli strumenti. Andiamo a selezionare lo strumento griglia rettangolare che si trova nella sezione degli strumenti dedicati alle porzioni di tracciati come archi, spirale, griglia polare, segmento linea. Quindi selezioniamo lo strumento griglia rettangolare. Qui possiamo vedere le dimensioni di default 100px e 100px, le possiamo lasciare così come sono. Quello che ci interessa a noi sono soprattutto i numeri dei divisori orizzontali e dei divisori verticali, quindi vale a dire quelle che saranno le colonne e quelle che saranno le righe. Possiamo tranquillamente adattare un numero di 8 e 8, poi varia in base alle nostre esigenze, ai nostri bisogni, ma in questo caso per avere una mood board abbastanza variegata, con riguade di forme diverse, può essere molto utile il numero di 8 sia per le righe che per le colonne. Noi riempriamo la griglia, facciamo in modo di usare quindi soltanto il perimetro esterno come cornice, quindi come bordo e il tracciato esterno. Diamo all'ok con lo strumento sposta, posto la griglia selezionata verso l'angolo sinistro in alto e vado a fare un ridimensionamento libero, in modo da far coincidere più o meno la stessa distanza dai bordi della tavola. Ora con la griglia selezionata mi sposto sul menu oggetto, tracciato, e vado ad applicare uno scostamento del tracciato. Si aprirà tipo pannelli in opzione, qui possiamo decidere appunto il tipo di spicolatura. Se attiviamo infatti la modalità anteprima, andiamo subito a vedere come lo scostamento ci permette di creare dei tracciati tra un riquadro e l'altro, sostanzialmente definendone la distanza. Questo riquadro, questo riquadro, questa è la distanza sia in orizzontale che in verticale che si viene a creare tra i vari riquadri che compongono appunto la griglia. Ora aumentando lo scostamento chiaramente andiamo ad aumentare la distanza, quindi io direi che 5 pixel potrebbe essere un valore, in questo caso, molto utile, per andare a definire una distanza normale, e la distanza sostanzialmente ci aiuta a far spiccare il contenuto che andrà a riempire i singoli riquadri della nostra mood board, come vedremo tra poco. Il tipo di spicolatura ci permette invece di definire se i tracciati che vanno a comporre le distanze, quindi tra un riquadro e l'altro, devono essere rettilinei rotondi, quindi con il terminale rotondo, oppure smussati, facendo in modo che l'esterno sia smussato, a noi interessa che siano sostanzialmente regolari, quindi va benissimo la spicolatura di tipo viva. Infine i limiti di smusso, 10, va più che bene, ricordiamoci sempre di attivare la modalità anteprima, clicchiamo su ok. Ora andiamo a selezionare lo strumento selezione diretta, o scorciato da tastiera A, andiamo quindi a selezionare soltanto il perimetro esterno, e con il pulsante da tastiera cance lo andiamo a cancellare. Due clic andranno bene. Selezioniamo di nuovo tutta la griglia, ora con il tasto destro ci spostiamo sulla griglia, e clicchiamo su separa, perché adesso tutti gli elementi che compongono la griglia sono riuniti in un unico gruppo. Andiamo a separare. Ora con la griglia selezionata andiamo sulla paletta degli strumenti, e andiamo a selezionare lo strumento crea forme, perché da questa griglia dobbiamo ottenere dei riquadri, e questi riquadri lo ospiteranno le varie immagini o grafiche personalizzate della nostra mood board. Quando passiamo il mouse sui singoli riquadri, vediamo che il cursore è attivo, dunque lo strumento è attivo e pronto per essere utilizzato. Se invece clicchiamo sul tasto Alt, vediamo come accanto al cursore si attiva. L'iconcina meno significa che in quel momento stiamo nella possibilità di sottrarre la forma dall'area. Così invece la aggiungiamo. Quindi teniamo premuto e andiamo a unire i riquadri della griglia per formare i riquadri ospitanti, in questo modo. Chiaramente facciamo in modo, come in questo caso, di far rientrare tutto all'interno della creazione della forma, tutto quello che è compreso all'interno del riquadro che vogliamo evidenziare. Come vedete io lascio le distanze tra i vari riquadri, in modo da cominciare a marcare le differenze tra uno e l'altro. Come dicevamo, ogni riquadro ospiterà un'immagine, una grafica, un pattern, un elemento, un oggetto, che rappresenta il brand, esaltandone soprattutto il sentiment, l'aspetto e il motivo. Bene, questo può essere sicuramente un indicatore di mood board. Ora però dobbiamo andare a eliminare le distanze. Possiamo andare eventualmente con la selezione diretta a selezionare i vari riquadri e poi dal pannello livelli bloccarli con il lucchettino, oppure continuando a mantenere la selezione della griglia attiva, sempre con lo strumento Creaforme ancora evidenziato, clicchiamo sul tasto Alt, ci spostiamo all'interno delle distanze e le andiamo a eliminare. Ed ecco la struttura della nostra mood board con tutti i riquadri e le relative distanze, tutte perfettamente uguali e coincidenti tra di loro. Questo potrebbe essere il risultato quindi quando disattiviamo la selezione e aggiungiamo un colore di traccia a tutti i singoli riquadri, selezionando e attivando appunto come abbiamo visto in precedenza o il colore della traccia dal pannello strumento che si trova nella parte bassa, oppure attraverso il pannellino colore attivando sempre la traccia e associando quindi un colore. Ma come possiamo andare a riempire questi riquadri? Chi ci dà l'idea di come possiamo andare a riempire? C'è esiste una metrica? Esistono delle regole? Non esistono delle regole precise chiaramente, ma ci possiamo affidare all'intuito e soprattutto al nostro senso di comunicazione, perché dobbiamo sempre considerare che quello che andiamo a inserire in questi riquadri deve trasmettere il massimo dell'empatia verso il nostro cliente finale, ad esempio, in favore del nostro progetto, che ricordiamo in questo caso è la presentazione del nostro brand. E un'idea potrebbe essere questa. Ecco, come possiamo vedere, vediamo nella parte alta il primo riquadro principale, il logo, quindi questo ospiterà sostanzialmente il vettoriale del nostro logo, che potrà essere solo lettering o pittogramma più testo o solo pittogramma. Poi ho immaginato alcuni riquadri, come questo e questo più in basso, che ospiteranno magari due pattern realizzati con il loghetto o con elementi, oggetti, che hanno contribuito alla realizzazione del logo. Ti lascio in descrizione il link del video in cui ti mostro come creare un pattern in modo semplice e veloce. Qui possiamo inserire dei mock-up, magari realizzati con Photoshop. Anche per questo ti inserisco in descrizione il link su come realizzare un mock-up con Adobe Photoshop. E questi mock-up possono ospitare appunto delle immagini del brand, magari delle immagini con il logo. Qui poi possiamo mettere ad esempio l'icona del logo su uno sfondo, magari con i colori caratteristici di questo logo. Nella parte bassa, per esempio, la palette, con tutti i riquadri dei vari colori, che riguardano appunto il logo, sia il principale che i secondari. Dei riquadri li ho lasciati, per esempio, per ospitare dei dettagli di foto, foto che hanno sempre attinenza con la tematica lanciata e trattata dal nostro logo. Un'alternativa del logo, che potrebbe essere una versione alternativa, una versione minimal, una versione al contrario, dove il testo prende il dominio rispetto al petrogramma. Sono tutte idee in evoluzione. Uno spazietto dedicato alla brand identity, per esempio, come un capo d'abbigliamento con stampato lo stemma del logo, oppure un'insegna di un'attività commerciale, che potrebbe essere appunto il negozio del brand, il negozio che vende quel prodotto. Chiaramente questa non è una regola fissa. Possiamo decidere, in base a quelle che sono le soluzioni creative, di cui qui vediamo una parte, dove andare a collocare cosa. Questo è un esempio pratico. Vediamo quindi sulla base di questo schema cosa sono andato a creare. Ecco qui. Vediamo come ogni riquadro della mia mood board ospita un'immagine, una grafica, un elemento che nasce e che viene realizzato proprio per enfatizzare il sentiment del brand, esaltando le caratteristiche stilistiche, perché il suo intento è soprattutto quello quando parliamo di una mood board, una presentazione monopagina veloce. Qui vediamo un paio di mock-up. Ecco due pattern. Vediamo delle foto. Ti lascio in descrizione un link di una raccolta che ho realizzato, dove sono contenuti siti da cui scaricare immagini free stock, che puoi utilizzare tranquillamente, anche senza attribuzione di licenza, per i tuoi progetti, come per esempio per creare la tua mood board. Sempre in descrizione, proverai un link per il video su come creare delle maschere di ritaglio con Adobe Illustrator e grazie alle quali inserire delle immagini come nella mood board che vedi. Nei prossimi video ti mostrerò come creare un logo da zero con Adobe Illustrator, quindi mi raccomando iscriviti al canale per non perderti nessun altro video su Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video! Grazie a tutti! Grazie a tutti!